È proprio da qui, dalla ciclabile dell'Arzilla, che sono a dare una buona notizia alla città. La inaugureremo ufficialmente, quindi la apriremo ai ciclisti e ai pedoni il 16 di giugno, nel pomeriggio. Daremo poi ulteriori informazioni sull'orario, ma siamo ben felici di restituire anche questa nuova opera alla città, dove abbiamo cercato di mantenere un po' tutto quello che è l'aspetto ambientale e preservarlo, perché è veramente uno spettacolo naturale straordinario. Lo abbiamo migliorato anche nella sicurezza, perché se vedete c'è una staccionata proprio ai bordi del torrente, il contenimento di quello che sono le scarpate. E siccome in questa prima fase termineremo questo primo tratto che si snoda poi su Viale Romagna, finiremo i lavori nel tratto che va da Viale Romagna al sottopasso della statale 16, in un secondo tempo esattamente da metà settembre, proprio per non far confluire poi il traffico dei pedoni ciclisti sulla statale. Significherà quindi che dal 16 di giugno tutta la ciclabile sarà percorribile sino a mare. È un investimento in cui ci abbiamo tenuto fin dal primo momento, è stato un percorso difficile perché comunque ci sono state tutta una serie di attenzioni alle quali dovevamo in un certo modo stare dietro, quindi si parla di massicciate, si parla di sicurezza, comunque quindi è stato un percorso estremamente complesso, però alla fine siamo tutti contenti. Questo è un investimento che per Aset ha significato un esborso di 600.000 euro, quindi è un importo importante perché comunque sono investimenti di un certo spessore. Ci troviamo in quelli che noi chiamiamo tratti 3-4 dell'intervento complessivo della pista ciclabile e in particolare qui abbiamo realizzato un'opera di sostegno di un versante per poter allargare il piano stradale e per garantire la friabilità e in sicurezza di pedoni e ciclisti. È stato fatto tutto il sistema di regimazione delle acque meteoriche che a intervalli intercetta appunto l'acqua piovana che precipita sul piano stradale e l'area capita nel torrente Arzilla. È stata fatta la fondazione stradale, a breve verrà fatto il piano asfaltato che completerà la parte percorribile della pista. Poi è stato fatto un impianto di illuminazione un po' particolare che avrà un'illuminazione molto lieve e solo in prossimità del passaggio di pedoni e ciclisti si accenderà e aumenterà la propria intensità luminosa per garantire appunto una visibilità migliore del tracciato. E poi è stata fatta la staccionata di protezione sul lato del torrente Arzilla.